A Villa Urbana nei giorni scorsi è stato festeggiato l'unico centenario del paese. C'era anche Giorgio Mastino. Un'intera comunità in festa per un traguardo ambito, i cent'anni raggiunti da Francesco Lai. Villa Urbana si è commossa davanti all'unico centenario del paese. Padre di cinque figli, una vita spesa sui campi da buon agricoltore e allevatore. Segreto delle lisir di lunga vita è il mangiar sano. E anche se lui dice di aver ormai rinunciato alla buona cucina, i figli smentiscono. Ha detto solo una piccola bugia, ha detto mangio poco, è un gran mangione e mangia di tutto. Il suo piatto preferito è la pecora all'essa. A fargli festa anche l'amministrazione comunale. Per il sindaco Luca Casula, occasione propizia per ricordare le politiche a sostegno degli anziani. Abbiamo un'assistenza domiciliare che funziona, abbiamo attivato tutte le misure che ci sono state consentite, che ci vengono consentite dalla Regione, in particolar modo la legge 162, che certamente consente di garantire un'assistenza effettiva agli anziani, mantenendo poi gli anziani nelle proprie case. Accanto a queste politiche poi manteniamo fermo l'obiettivo di ultimare la struttura già iniziata per realizzare una casa protetta per l'accoglienza di anziani unitamente ad un centro diurno. È stata festa fino a tardi con il tradizionale taglio della torta e il discorso finale di zio Francesco. Aneddoto della serata, il racconto di una recente visita in ospedale. Per lui sembrava l'epilogo di una vita intensa e invece... A che morì e invece c'è usano!